In collaborazione con Antica Cantina di Canelli Il caso è stato risolto anche grazie alla collaborazione della Apple che ha captato il segnale dell'iPad rubato nel corso della violenta rapina in villa avvenuta lo scorso anno a Montegrosso d'Asti. I due autori principali sono stati catturati con altri quattro rapinatori già identificati ma irreperibili nella notte del 14 ottobre entrarono nella grande casa di frazione Tana della cittadina statunitense di origini rumene Andrea Olteanu. Per farsi consegnare gli oggetti di valore, almeno 50.000 euro, puntarono le pistole contro i suoi due figli di 7 ed 8 anni. Inoltre legarono mani e piedi un collaboratore finanziario della donna presente nella villa. I due arrestati rinchiusi nel carcere di Alessandria sono i fratelli Spita, Petrus e Mirel Spita. Abitavano nel quartiere Cristo del capoluogo Alessandrino, da dove è pervenuto il segnale dell'iPad acceso nei giorni successivi alla rapina per pochissimi minuti. Per giungere alla loro cattura i militari dell'arma hanno incrociato un numero infinito di dati e messo assieme una serie di piccolissimi indizi come l'accento dei rapinatori tipico di una zona specifica della Romania. Mirel Spita, di professione operaio edile, era un insospettabile. Si recava al lavoro alle 5 di mattina, ma era proprio nelle poche ore libere che aveva a disposizione quando era fuori nei cantieri di lavoro che eseguiva i sopralluoghi per realizzare le rapine. Un gruppo molto eterogeneo, il cui Nocciolo Duro era costituito da due fratelli rumeni, molto giovani, ma molto determinati nella loro attività. Peraltro uno dei due operaio di una ditta edile, il quale spostandoci per la sua attività lavorativa selezionava così gli obiettivi e comunicando al fratello quello prescelto lasciava a questo l'incarico di formare il gruppo che avrebbe poi materialmente consumato la rapina, il furto piuttosto che quant'altro. Con i fratelli Spita sono stati identificati gli altri autori, altri quattro rumeni ed un albanese. Uno non ha partecipato materialmente al colpo, ma è un complice di una vasta banda di professionisti del crimine che a seconda delle loro competenze venivano assoldati proprio dai fratelli Spita. I carabinieri hanno anche recuperato materiale rubato in un'impresa edile per un valore di 10.000 euro. Tutti gli elementi raccolti fanno anche supporre che tutti gli oggetti rubati in Italia, ma anche in Germania, venissero riciclati in Romania. Ma il fatto straordinario di questa importante operazione dei carabinieri di Asti è la collaborazione con la Apple che ha portato a rintracciare ed anche a recuperare l'iPad e con loro i pericolosi rapinatori. Per questo il comandante della compagnia di Asti, colonnello Fabio Federici e i suoi uomini hanno ricevuto le congratulazioni del Console Generale degli Stati Uniti a Milano. C'è la soddisfazione delle congratulazioni da parte del Console Generale degli Stati Uniti? Sì, questa è una cosa che ci dà molta soddisfazione. C'è stata una collaborazione con il Consolato che ci ha consentito di intrattenere dei rapporti con la casa madre dell'apparato elettronico che ha sede negli Stati Uniti e in questo senso molto utile è stato il loro intervento. Comandante, con l'individuazione dei responsabili della rapina di Montegrosso, l'ennesimo successo a parte dell'arma, è stato sottolineato anche in Prefettura come quest'anno siano praticamente state risolte tutte le rapide. Se l'arma dei Carabinieri in questo caso fosse un'azienda, voi avreste la tripla A+. La ringrazio per i complimenti, ma i complimenti ci devo solamente simulare a fare meglio. Purtroppo, quando ci sono questi brutti fatti, il nostro compito principale è impegnare tutte le nostre risorse fisiche e mentali dei nostri carabinieri che sostanzialmente va a loro il plauso perché si impegnano veramente con tanta determinazione. E quindi speriamo di poter mantenere questo trend, come dice lei, da 3A, 3A, 3+, speriamo che non ci declassino. E ieri pomeriggio c'è stato un altro incidente stradale mortale, uscita di strada con la sua Opel Tigra ed è deceduta nell'impatto con un albero, Camilla Angela Bergesio, 56 anni, commessa di Castagnole Monferrato. L'incidente avvenuto in frazione Gioia di Scurzolengo fra Valenzani e Castagnole potrebbe anche essere stato causato da un improvviso malore della conducente. E qui ad Asti invece si registra l'ennesimo incendio di un'auto nel quartiere Praia. Il rogo nella notte in via Pavese ha completamente distrutto una Fiat Punto di proprietà di un commerciante della zona. Nel quartiere sono una decina le automobili date alle fiamme negli ultimi mesi. E con questo da Asti è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci alle prossime edizioni. In collaborazione con Antica Cantina di Canelli Grazie per l'attenzione.